ciao ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube e lo so che è un po di tempo che non mi faccio vedere in realtà non mi vedete nemmeno adesso però non ce l'ho fatta proprio a registrare dei video e adesso che ho un po di tempo disponibile ho deciso di realizzare un piccolo tutorial per principianti ma che potrà essere appunto di d'aiuto anche a qualcuna di spunto per realizzare qualche collanina con i fiori di quelle che si portano ora molto molto semplice magari da regalare a qualche nipotina alla figlia perché no e con questa tecnica che è veramente semplicissima e con cui potete utilizzare anche le perline di conteria quindi è un buon modo per smaltire anche le perline di conteria potete realizzare sia delle collane che dei bracciali o delle cavigliere per quest'estate io per realizzare questa collanina con i fiorellini che in realtà si basa su un modellino che vi faccio vedere io avevo realizzato già anni fa non è questa qui quella che andremo a realizzare oggi perché per questa ci vogliono delle perline particolari di questa troverete lo schema su etsy appunto insieme allo schema di questi altri due braccialetti qui questo appunto l'ho realizzata un po di tempo fa e mi piaceva per l'estate quando sono uscite appunto le perline fluo e ho deciso di riproporla con le perline normali quindi le 11 0 io utilizzerò queste colorazioni qui che sono le silver lined milky teal queste le avevo acquistate da cadoro poi le silver lined milky hot pink le silver lined milky grapefruit e per diciamo la parte centrale di ogni fiorellino io utilizzerò le classiche oro queste qui non ho le gialle altrimenti avrei utilizzato le gialle che sono le classiche che uso sempre io pf 557 della to non ci serviranno molti materiali oltre le perline avremo bisogno di qualche anellino da congiunzione e un moschettone questa collanina si porta come giro collo quindi non sarà nemmeno molto lunga e ovviamente ci serviranno delle pinze come sempre quindi pinza punta piatta io utilizzo queste due e il nostro è mancabile ago numero 12 e ovviamente il fire line io sto utilizzando come quasi sempre lo 0,15 millimetri che è una misura molto versatile quindi questo tutorial adatto anche per le principianti e nulla io direi di cominciare iniziamo con cinque perline dorate che ci serviranno per creare la solina alla fine del filo quindi le porto alla fine del filo ripasso all'interno di tutte le perline porto il filo dove c'è quest'altro capo di filo e faremo un piccolo nodino in questo modo anzi ne faremo due tre due e tre ecco qui questa praticamente è un una piccola solina in cui inseriremo l'anellino di congiunzione una volta terminato il lavoro allora adesso vado a inserire una rocaille 11 0 dorata sul lago e la porto alla fine del filo ecco qui adesso inserisco sul lago 6 perline hot pink e le porto alla fine del filo vado a rientrare nella prima perlina hot pink che abbiamo inserito tiro il filo prendo una perlina dorata e come vedete io ho il filo che fuoriesce verso vi giro la lavorazione verso sinistra e adesso in pratica io vado a rientrare con lago nella perlina opposta per creare appunto la parte centrale del fiorellino da destra verso sinistra ovviamente dopo aver inserito una 11 0 dorata sul lago quindi rientro con lago da destra verso sinistra e tiro bene il filo come vedete abbiamo creato il primo fiorellino adesso io vado a inserire una rocaille dorata che fa da distanziatore tra un fiorellino e l'altro ecco qui e procedo con le perline til quindi inserisco 6 perline til sul lago e le porto alla fine del filo rientro nella prima perlina til tiro bene il filo avvicinate bene il fiorellino alla perlina dorata come vedete il filo fuoriesce sempre verso sinistra prendo una perlina dorata e rientro nella perlina opposta quindi questa centrale qui questa da destra a sinistra e tiro bene il filo ecco qui guardate quanto sono carini sono bellissimi adesso inserisco un'altra perlina dorata inserisco 6 perline arancioni grapefruit 4 5 e 6 eccole qui le porto alla fine del filo rientro con l'ago all'interno della prima perlina color grapefruit tiro bene il filo prendo una perlina dorata e rientro nella perlina opposta da destra verso sinistra non sono bellissimi ragazzi mi piacciono tantissimo sono veramente molto 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 carini e quindi bisogna procedere in questo modo ovviamente seguendo la sequenza di colori che abbiamo deciso di alternare si può realizzare in tantissimi colori con le perline regolari viene più carina perché si dà un tocco di uniformità alla collanina stessa ma si può utilizzare anche come bracciale come vedete e si può realizzare anche con le perline bianche per fare delle bellissime margherite o qualsiasi veramente colore voi vogliate per creare dei braccialetti anche da indossare tutti insieme e appunto che danno un tocco creativo e colorato ai vostri outfit estivi d'estate forse ci piace un po più indossare qualcosa di colorato ma ugualmente pratico quindi allora io continuo con il primo colore quindi ho inserito la 11 0 sul lago inserisco le sei perline hot pink sul lago le porto alla fine del filo rientro nella prima perlina hot pink tiro bene il filo prendo una perlina dorata e rientro da destra verso sinistra oppure dal basso verso l'alto nella perlina opposta e tiro il filo ecco qui io procedo e continuo la lavorazione per farvi vedere il risultato finito quindi ci vediamo quando avrò terminato eccoci qui come vedete ho realizzato una bella collanina abbastanza lunga ci ho messo circa un'oretta un'oretta qualcosa e ho consumato un bel po di filo infatti il consiglio che volevo darvi è proprio quello di utilizzare filo abbondante se volete realizzare una collana o comunque un bracciale a più giri infatti io penso che lo indosserò così perché è veramente carinissimo e mi sono fermata circa 30 centimetri guardate troppo troppo carino e se dovessi appunto aver bisogno di ulteriore lunghezza aggiungerò un pezzettino di catena catena in alluminio adesso comunque che cosa vado a fare praticamente dall'altro lato ho realizzato l'ultimo fiorellino e vado a inserire una rocaille dorata alla fine qui e poi vado ad inserire come per la sola precedente altre cinque perline 11 0 dorate ecco qui porto tutto qui e rientro ovviamente soltanto nelle cinque ripassando all'interno di tutta la sequenza questa volta non solo della prima perlina quindi faccio così ripasso ripasso più volte nella sequenza allora faccio un piccolo nodino in questo modo qua vi entro all'interno della solina e tiro il filo ecco qua e ovviamente se volete una maggiore sicurezza potete mettere un pizzichino di colla io rifaccio un altro nodo che si viene a creare praticamente questa solina e tiro dopo di che ecco qua possiamo fare anche un nodo un paio di nodi singoli qui oppure potete anche ripassare all'interno delle diciamo delle perline per una maggiore sicurezza ecco qui adesso vado a tagliare il filo e ci vediamo quando ho finito ecco qui arrivati alla parte finale del nostro tutorial non faccio altro che aggiungere un anellino di congiunzione sia da questo lato ecco qui chiudo ne aggiungo un altro dall'altro lato a cui collego il moschettone ed eccola qui la nostra catenina è completata vi faccio vedere l'effetto sul braccio troppo carino mi piace tantissimo si può indossare ovviamente anche come bracciale oppure come collarino come giro collo io spero che questo breve e semplicissimo tutorial vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ricordo che potete seguirmi quotidianamente su instagram posto storie tutti i giorni e ho aperto anche un canale su tiktok quindi mi trovate con il mio nome e cognome natalia savastano anche su tiktok se vi va seguitemi vi mando un abbraccio e ci vediamo presto un bacione ciao ciao